Questi sono i Bastardui, buoni, buoni. Streppe Caccialà già provati? Sì, già provati, sono molto buoni. Adesso andiamo avanti, vediamo l'itinerario. Una cosa importante, vedo la scorta, organizzati bene. Sì, sì, quella lì. Ovviamente questo non può mancare, altrimenti questi non scendono. Bianco, nero, che cosa esce? Un vermentino. Ok, allora la scorta c'è, potete proseguire. Non mi sembra proprio una personcina da Brodino, però il proto d'erba. Non cambi mai proprio. Beh dai, io posso, scusa, perché vista le taglie direi che possiamo essere abbastanza colleghi. Taglie sottili. Taglie sottili. Vabbè, dobbiamo riempire da qualche parte. Come va questa serata? Non è male, non è male, ha iniziato bene, adesso stiamo facendo un giro dei caruggi. Brodino ci sta, a sesta. A sesta un po' già i primi presi. Dobbiamo sentire un po' dal pubblico, sapere come va. Abbiamo mangiato un po' di tutto, adesso guardiamo qui cosa ci danno, comunque è tutto buono. Ottimo, delle ottime cose, anche le... C'è qualcosa che vi è piaciuto più di un altro? E il raviolo di cosio. Non diciamo, siamo a Mendatica, non diciamo, ma siamo a Mendatica. Potremmo dire in dialetto che non sono capace. De Cougie. Ecco, de Cougie.